Il sorriso, la smorfia facciale che può cambiare la giornata a te e a chi lo doni. I sorrisi più belli della mia vita, i miei figli David e Daniele. Punti cardine della mia vita, la mia passione per i viaggi, per nuove culture e per tutto ciò che si crea e si trasforma. Diciotto anni fa, uno dei miei sorrisi più belli, mio figlio David, è venuto a mancare. A quel punto la mia fede è riaffiorata e il nostro buon Dio mi ha presa in braccio e traghettata nella mia nuova vita, fatta di accoglienza e cura degli altri. Al lavoro mi hanno affidato la formazione delle nuove leve e la consulenza di EURES, ossia la mobilità professionale europea. Sono divenuta con l'esperienza sul campo una specie di Sherlock Holmes. E quando c'è un problema, indago, penso alla soluzione e voilà, risolvo. Ogni accadimento nella mia vita significa progetto, cambiamento, rinascita, evoluzione. E mi fa capire che in ogni contesto in cui operiamo, le persone sono uniche ed importanti. Ognuna è un tassello nell'infinito puzzle della vita. Grazie. 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 Grazie.